e buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video spero di guardare dalla parte giusta ecco guardo qua perché sto registrando col telefono che sto andando in maneggio e prima di partire da casa ho detto oggi registro il video in maneggio in cui vi presento la nuova cavalla e dato che c'è Luca io avevo promesso che quando tornava avevate un video un po' più decente in maneggio ovvero anche solo con la mia videocamera piccolina oddio che si vedono meglio siamo usciti e adesso siamo a metà strada e ho detto ops il video e quindi ho dimenticato anche la videocamera però dato che ho bel telefono lo farò col telefono quindi detto come detto prima ci stiamo indirizzando verso ci stiamo indirizzando verso il maneggio appunto per farvi conoscere la nuova cavalla che si chiama Novara si chiama Novara con altri nomi è belga che non è solo Novara sempre ancora italiana scusate per il più traballo io però ero più grande e niente sono le... ma scusa me le hai fatte andare indietro di un'ora? ma no è giusto mezz'ora per sistemare l'orologio della macchina me lo tira indietro di un'ora di nuova ancora vabbè comunque mi devo mettere in testa il fatto che diciamo che la vita normale un po' si è ripresa ma chi saluti? e... conoscere conoscere radio la vita normale un po' si è ripresa per cui non posso più partire proprio tirata tirata col tempo perché in maneggio ci arrivo un po' più del previsto dato che iniziano a lavorare c'è il traffichino poi sono le 5.20 cacchio devo essere in maneggio tra 10 minuti non so se ci arrivo no vabbè è giusto sì e quindi niente mi devo mettere in testa questo qui quindi noi adesso ci vediamo in maneggio tra pochissimo vi faccio vedere anche G però ovviamente è il più piccolo G che adesso sinceramente è veramente più piccolo perché Novara mi sa che è più grande anche se sembra piccolina e niente a tra poco guardatela lei è Novi no Novi è improponibile perché Novara sì vabbè Novara è più bello dai ti chiamerò sempre a Novara non ha mai un sopportione guardate qua c'è che c'è sì eh vogliono conoscerti infatti vogliono scegliere hai sento sta colore a più in litro? ecco appunto come non ho detto adesso puoi aggiornare le spicchie ronde esatto ma tanto le usavo lo stesso vabbè è più vero eh sì è lei vedrai che c'è tipo una bocca un po' un po' strana perché fa così se lo vedremo se lo manca senza ammazzarci non guardare niente no c'è la canina un po' lunga lo tagliate non lo tagliate no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.